La Roma vince a Verona e si riporta al quarto posto in classifica con un colpo solo supera Inter e Lazio. Bentornato a Nicolo Zaniolo che segna in campionato in una partita difficile perché fa a sportellate con i difensori del Verona ma regala sempre strappi decisivi e proprio i suoi strappi mettono in difficoltà tutti i difensori del Verona. È bravo da attaccante vero a essere pronto e puntuale sul palo di Ebram e ribadire il pallone in rete. Insomma una partita più che sufficiente per Zaniolo che poi lascia il campo per infortuno. Ma la Roma ha ritrovato probabilmente in campo e dal punto di vista realizzativo Nicolo Zaniolo.